Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Alla fine di questo video vi farò vedere cosa è successo mentre cercavo di girare. Oggi parliamo di Glock. Finalmente posso parlarvi di uno dei temi che mi sta più a cuore all'interno del mondo del software, ovvero non solo le pistole, ma le pistole della Glock. Glock lover, mettici, Glock lover. Non cock lover, Glock lover. Infatti è un rarissimo caso perché in casa abbiamo tutti i modelli. Piccola nota, ovviamente avevamo tutti i modelli tranne la 18C con il caricatore aumentato, che ovviamente è arrivata ed è finita in 0,5 secondi. Quindi in sostanza abbiamo tutti i modelli migliori per chi vuole cominciare a avere comunque un modello molto prestante a un ottimo prezzo. Bando alle cianci, sigla che poi vi faccio vedere tutte le incredibili kick che ho per voi oggi. Sigla, devo dirlo alla fine, non prima. Togliamoci subito dalle scatole il modello migliore, perché sappiamo tutti che è il modello migliore. È inutile stare qui a girarci intorno. Sto ovviamente parlando della Glock 17 Gen 5. Come ben sapete questa è la mia pistola preferita, letteralmente sono un grandissimo amante di Glock. Questo modello è veramente spettacolare. Troviamo tutte le accortezze dei nuovi modelli Umarex, sia all'interno avendo un carrello molto più leggero, con dei componenti che sinergizzano molto meglio tra di loro, che la nuova features della regolazione dello PAP esterno. Quindi vi basta mettere all'interno una chiavetta a brugola e potete poi andare a regolare lo PAP per l'appunto, senza dover andare a smontare completamente la pistola. Oltre a questo ci sono ovviamente i suoi nuovi caricatori migliorati con aggancio che potete vedere qui ambidestro, quindi potete andare a spostare il pulsante di rilascio del caricatore se siete mancini nella parte destra della pistola e poter andare a scaricare il caricatore senza trovarvi appunto il tasto qui in mezzo, che non sapete come andarla a premere se non con del casino. Polimere ID, altissima fattura come Umarex ormai ci ha abituato da anni. Logi originali dappertutto sulla pistola, addirittura anche sulle tacche di mira e quello stupendo, al contrario, qui sotto il caricatore. Per chi se lo stesse chiedendo è ovviamente a green gas, tutte le glock di cui parleremo oggi sono a green gas, anche perché sono fatte per chi deve cominciare, quindi devono avere un pochino di accortezze in più, è una semplicità nell'utilizzo maggiore. Ripeto, green gas ottimo per chi deve cominciare, CO2 per chi è un pochino più avanzato. Impugnatura inferiore gen 5, quindi non gen 3, non gen 4, ma gen 5, è perfetta. La mano gli si abbraccia veramente sopra, indipendentemente che abbiate un'impugnatura tradizionale, o non, è veramente tanta tanta roba, permette un'impugnatura veramente comoda anche per voi mancini, la sto impugnando in maniera mancina in questo momento, comoda, i tasti sono esattamente dove dovrebbero essere. Tra l'altro questa è una pistola perfettamente ambidestra, anche perché i tasti di sgancio del carrello sono presenti da entrambe le parti, quindi sia qui sulla destra che qui sulla sinistra, è veramente pensata per qualunque operatore, si adatta perfettamente alle necessità di chiunque. Una cosa che mi chiedete spesso è quanto la pistola si va a rovinare nel tempo, le vernici, soprattutto se si vanno a scolorire il resto. Ovviamente come tutte le vernici, come tutte le pistole, sì, si scolorisce, ma veramente poco, nel senso che questa è una verniciatura simile a Armavera, quindi prima che si vada effettivamente a rovinare, a meno che non vi cada di testa, non soffre veramente per niente. Scatto perfetto a mio parere, perché è perfetto, è solidissimo, potete farci il giochino della moneta senza problemi e noterete che la pistola veramente non si muove. Ripeto, è una bestia, ve la consiglio caldamente. Per queste nostre quattro sfumature di Glock non potevamo non citare la 45, praticamente identica alla Gen 5 17, con l'unica differenza che è un pochino più compatta. Stessi identici materiali, sempre a green gas, stessi identici loghi con un paio di features in più. Essendo un pochino più corta hanno aggiunto questo grip frontale che permette di andare a aprire la pistola in questa maniera, tirando direttamente dal davanti in questa maniera o da sopra o da sotto. Questo permette di non dover scarrellare per forza da dietro, ma poter fare anche quello che normalmente è il check per aver incamerato il primo colpo. Veramente molto molto ben fatta, sempre stessi materiali di ottima fattura, è un pochino più corta, molti di voi magari un pochino più piccoli potrebbero avere più facilità, perché oltre ad avere peso ovviamente ridotto, è anche un pochino più semplice da muovere in giro. Detto ciò rimane una pistola incredibile, ha un rail inferiore come l'altra che permette comunque di agganciare qualunque tipo di torcio accessorio perché va ad essere veramente identico alla stessa dimensione, quello che cambia è semplicemente il carrello canna interna e tutto il componente superiore. Sempre stessi loghi dell'altro, ovviamente con l'aggiunta di 45 qui, ed è sempre un fusto Gen 5, ovviamente. Un'altra fan favorite che non potevo non includere nel video è ovviamente la 19X. Ne abbiamo parlato a profusione negli altri video, è ovviamente un taglio da esercito essendo questa tan, quindi è più pensata per l'esercito, è anche provvista di un anellino per andare ad agganciarla con un cordino di ritenzione, cosa che viene spesso fatta per evitare di perderla in giro. Ovviamente questa è una fan favorite, me la chiedete in continuazione, quindi sì è tornata, potete prenderla e ordinarla direttamente dal link in descrizione tramite il monopoli software shop di Reggio Emilia. Siamo a Reggio Emilia, siamo un negozio di softair, quindi tutte le cose di cui parlo le trovate linkate in descrizione. Cliccateci sopra perché io non ci guadagno niente, però voi ci guadagnate perché prendete attrezzatura softair a ottimi prezzi. Ovviamente troviamo degli inserti completamente neri e il resto della pistola invece è ovviamente tan, quindi tutto il corpo della pistola è in colorazione tan e gli insertini sono neri. Secondo me stacca molto bene con il design della pistola e offre ovviamente qualche elemento in più rispetto alle altre. Come detto troviamo l'aggancio per una cinghietta di ritenzione fatto proprio ad anellino, normalmente invece l'andiamo ad agganciare da questo buchino qui, trovo sia un pochino più comodo ad agganciarla, non che cambi tanto, è semplicemente per rispettare il design originale della pistola. Ma oggi è la giornata di gente che cerca di entrare qui due ore prima, non capisco. Sempre ovviamente loghi originali su tutta la pistola, compreso il caricatore, apprezzato che ci sia quel pallino nero che vi permette di andare a togliere la copertura del caricatore per andare a metterci il gas dentro, sempre green gas, neanche a dirlo trovo che abbia una comodità nell'impugnatura veramente buona perché riuscite a prenderla in maniera salda in entrambi i modi. È ovviamente un fusto Gen 5 che come già detto non solo è estremamente più ergonomico di Gen 3 e Gen 4, ma è veramente comodo per andare a collimare le tacche di mira. L'unica differenza che questa ha con gli altri modelli, oltre che ovviamente avere la lunghezza della 45 senza però le scanalature per aumentare il sistema di incameramento del primo colpo, è che la gonnellina inferiore, quindi l'aggancio, l'inserimento dei caricatori, non è ampliato come nei modelli Gen 5 tradizionali. Come vedete questo è letteralmente dritto così, mentre una 17 Gen 5 ha il ricevitore dei caricatori ampliato, quindi riusciamo ad andarlo a inserire anche se non ci arriviamo perfettamente comodi. Sarà stato qualcosa a fuoco in questa ripresa? Detto ciò vince sicuramente per quanto riguarda tutta l'estetica, la colorazione, la qualità dei polimeri, ha solo questa feature simenora. Ad alcuni il fatto che il fusto della generazione 5 sia fatto leggermente in butto non piace, in questo caso ho trovato una pistola veramente perfettamente quadrata come Glock tende ad essere. I modelli migliori di Glock più o meno terminano qui, ma è rimasto un modello che tendiamo sempre a dimenticarci e che rimane uno dei miei preferiti, perché dimostra come le dimensioni in effetti non continuo. Sto parlando della Glock 42. La glochina per alcuni, il grillo tonante per altri. Non solo è molto molto carina, molto molto caratteristica come pistola, ma soprattutto è perfetta per tutti quelli di voi che fanno tornei come PCS, Milsim, eventi di reenactment assortiti e hanno bisogno di una pistola da nascondere. Ci è capitato più volte che questa cosa venisse utile nei tornei PCS dell'anno scorso e avere una di queste è veramente comoda, perché essendo talmente piccola può semplicemente stare in tasca ed è veramente difficile da trovare. Basta poi estrarla, sparare in fazza alla guardia e sottrarre i dati terroristici al gruppo terroristico numero X. Andrà bene sta cosa? È veramente ben fatta, è ovviamente completamente scarrellante, ha il suo caricatore e tra l'altro abbiamo anche la sua fondina, perché ha bisogno di una fondina apposta. C'è una fondina ovviamente prodotta da Amomac SeaTac, veramente comoda a fuoco, gentilmente, è veramente molto comoda perché è di quelle a sgancio e attacco rapido, è veramente fighissima, è schifosamente precisa per essere in questo formatino. Trovo che tra l'altro comunque per impugnarla ci si riesca facilmente, io non ho delle mani esagerate ma non ho neanche delle mani piccole, essendo comunque grande più o meno come la mia mano, riesco comunque ad andare in puntamento e premere il grilletto senza problemi. È veramente una bomba e chi è fan di Glock non può che farci un pensiero su una cosa del genere, non si scappa. Vi lascio linkata sia la pistola che la fondina in descrizione, così se poi ci volete andare a dare un occhio potete farlo, nel mentre il sole è completamente sparito. Detto ciò io penso di avervi detto tutto, come sapete adoro le Glock, trovo che siano pistole fenomenali che sparano veramente molto bene, tra l'altro avendo una vasta gamma di modelli poi non siete per forza obbligati a prendere solamente un modello rispetto che un altro, questo secondo me è una cosa abbastanza vantaggiosa un pochino per tutti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me quest'oggi, vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, trovate tutto linkato in descrizione per acquistare non solo i prodotti di cui ho parlato, ma tanto altro materiale da software a prezzi veramente ottimi. Vi ricordo inoltre che ci sono i link dei nostri Instagram in descrizione, forniamo un sacco di informazioni su nostre pagine private, quando tornano prodotti del genere, quando ci sono cose nuove che potrebbero interessarvi e sondaggi in cui voi potete decidere quello che succederà a questo canale. Inoltre vi ricordo che abbiamo attivato i pagamenti a rate, quindi potete prendere finalmente quel fucile che costava troppo senza pagarlo una fucilata e dilazionandolo in tante piccole rateine, solamente per acquisti in negozio, quindi se dovevate fare un salto qua per prendere quella determinata cosa, potete passare e farlo. Un ragazzo altro ieri si stava portando a casa l'MCX, che costa una fucilata prendendo la rate e pagandole, suddividendo questa spesa enorme in tante piccole rateine. Penso di avervelo fatto capire che si può fare il pagamento rate. Detto ciò, nuovamente grazie mille per essere stati qui con noi, vi auguro un ottimo sabato e come al solito qui da Red è tutto. Stay angry!